Tra gli ospiti che avete fatto fino ad ora, quello che vi ha sorpreso di più, che non vi aspettavate con un risultato? È sempre la risposta che è Massimo Ceccherini. Beh, l'ho vista, l'ho vista. Quella varia io la consiglierei, a prescindere quella puntata, anche se non ti piacciono i podcast o non vuoi seguirti, siamo antipatici noi. Tanto fa tutto lui in quella puntata, lui che parla e racconta cose anche, è bella perché sono anche cose personali, molto... Sì, ha detto delle robe anche pesanti su se stesso. Sì, molto profonde anche, sulle dipendenze che ci ha avuto, su traumiche che gli sono capitati, però comunque fa sempre ridere. In virgolette leggera, anche se magari nel caso di Ceccherini diceva delle cose pesanti.